salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questo video spiegazione per quanto riguarda la vendita del volante riparato quindi volante più pedali dentro la sua confezione e quindi è questo che vi viene spedito se lo comprate ho deciso di non fare un'asta perché se andavo sul bei con le aste poi ci sono anche le tasse e cose varie ho deciso di creare un annuncio sulle bei annunci l'ex bei annunci e quindi verrà messo penso in descrizione al video tutto il link diretto dell'annuncio in modo da andare direttamente al solo senza doverlo cercare e praticamente voi fate un'offerta nel giro di sette giorni in base alle offerte che mi arrivano e poi diciamo contatterò privi privatamente dato che si contattano privatamente così con gli e con gli e bei annunci e una volta che è stato deciso ho deciso chi infine mi ha offerto di più sono mi diceva ti offro 40 anni mi dice ti offro 45 passata una settimana 45 resta comunque la migliore offerta l'ho contato privatamente gli dico sei tu quello che che mi ha fatto la maggiore offerta se vuoi volante mettiamoci d'accordo per il pagamento e per le varie cose se è in zone di treviso casse franco e cose così si può fare anche un scambio sul posto in big money con tanti quattro foglietti da 500 e siamo a posto se invece siete al di là dell'oceano lo spedisco per quanto riguarda spese di spedizione vi vengono un po di 7 8 euro in più spedizione quella che è se comprate una cosa su amazon vi danno le spese di spedizione stessa cosa per me a meno che non mi offrite 200 euro allora le spese di spedizione le metto dentro il pacchetto completo e niente viene spedito questo perché ho notato se è stato qualche qualche dubbio su veniva data anche la console laterale ma no viene dato il mio volante riparato ciò vuol dire che può funzionarvi un giorno una settimana un anno vent'anni quindi lo usate due sere vi si rompe fine non potete venire no ma si mi ha rotto il video tutorial dello smontaggio lo fate la riparazione è una riparazione semplice magari avete un amico ecco per esempio se sono qui in zona massimo non riportate e rifaccio il collegamento se siete l'altro capo del mondo insomma quello che è questa è l'unica picca che si potrebbe avere ma io spero insomma l'ho provato c'è il video in cui lo provo che è proprio questo volante che provo e funziona perciò dovrebbe andare ho sostituito proprio tutto il pezzo di filo rotto perciò non dovreste avere problemi se poi tra un anno si rompe ha passato è passato anche un anno volante quello che si vende questo quello che vedete non c'è il cd dlc non c'è questo e i pedali fine questo si vende scatola perché per portarlo in giro poi niente si fate appunto di fare come potete leggere in entrambe le descrizioni sia quella di questo video che quella dell'annuncio fate la vostra offerta sette giorni di tempo poi ci vi contatterò io in privato se appunto direttamente anche con il sito per per decidere poi come trovarci su come pagare non preoccupatevi che va bene anche una ricarica della poste pay basta andare in tabacchino e pagare e ricaricare la carta per inviare i soldi se no c'è anche la paypal insomma a te preoccupare che bisogna pagare se ci combiniamo bene video velocissimo spero di aver detto tutto e se no appunto leggete bene le descrizioni di video ai ragazzi buone offerte spero che venga venduto se no trago fuori la finestra perché io non me ne faccio niente bene ciao a tutti e alla prossima ciao ciao